Io ho la mania degli anni 70, dei peggiori anni della nostra vita, ricordo sempre... Deve essere successo qualcosa, perché c'è questo problema, ce l'abbiamo tutti questo problema, ce l'abbiamo tutti perché essi sono tra di noi e non sono... essi sono tra di noi e come tu sai e come ho detto altre volte anche da questo palco, non è che li troviamo neanche tanto in una linea di produzione, non sono produttori di ricchezza, tendenzialmente sono nell'informazione, nell'educazione, nella magistratura e come ho detto sempre altre volte non riconosciamo l'onore delle armi, perché ribadisco la mia convinzione che quelle scelte le hanno fatte sempre meglio che lavorare.